Ciao a tutti, bentornati sul canale Amo gli italiani. Pasquale Larocca è un grande maestro di danza, un passato fatto di successi e una tecnica irresistibile che gli assicura molteplici vittorie. Va, danza e vince Il famoso ballerino Pasquale Larocca impera con il suo stile a Ballando con le stelle, ma tu lo conosci per davvero? Enigmatico, elegante e irresistibile, il suo segreto era chiuso nelle movenze e su un dettaglio Lo show più spettacolare della Rai ha chiuso l'anno con il prime time della serata di ieri La splendida Milli Carlucci ha presentato una puntata sfumeggiante dove molti VIP hanno dato il loro meglio nelle esibizioni Tra questi spunta uno dei maestri che ha colpito molto i telespettatori Pasquale Larocca è un talento ineguagliabile e la padrona di casa ha fatto carte false per averlo nella sua trasmissione visto che è molto richiesto Nella finale di ieri il bellissimo maestro di ballo, ha accompagnato per l'ennesima esibizione la sua allieva Luisella Costamagna Purtroppo le disavventure per una delle coppie favorite non sono mancate Nel corso delle varie preparazioni e allenamenti, la bravissima conduttrice di Agora è stata colpita da un infortunio che non le ha permesso di mostrare la sua bravura E, stata coraggiosa a mettersi comunque in gioco Hanno presentato un tango sensuale e perfetto tanto da avvalersi di cotanta standing ovation Eccezionali entrambi e Luisella orgogliosa di aver reso fiero il suo compagno sulla pista tanto sognata da molti colleghi Pasquale ha 33 anni ed è originario di Napoli Da piccolo segue i corsi di danza per segure la sua smania di ballare Dal 2003, arrivato ad una certa maturità alla sbarra, inizia il suo percorso sul piccolo schermo E, un componente della versione dello spettacolo della Rai in Irlanda dove si conferma vincitore Vissa il successo anche in Belgio, l'escalation del partenopeo non ha limiti Danza sui palchi di Broadway, e si conferma anche nel latino-americano Dopo qualche tempo entra a far parte del cast di Ballando con le stelle, e da subito diventa uno dei beniamini della nota trasmissione I complimenti del serale della finale sono giunti addirittura da Selvaggia Lucarelli che lo commenta così Tu sei come una macchina truccata, non dovresti nemmeno competere perché sei oltre, se lo dice lei allora è davvero un ottimo professionista Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità Ci vediamo nei prossimi video Grazie a tutti Grazie a tutti